Signor Presidente della Repubblica, l'unità nazionale è anche identificata in una carica e questa carica è oggi rivestita dalla sua persona. Credo di non dire niente di nuovo, affermando che se in questi anni il sentimento di unità nazionale è stato promosso e difeso, molto si deve a lei, alla sua guida, al suo esempio così come mi appare evidente che gli attacchi strumentali al suo ruolo siano espressione di una volontà di privare il Paese, della imprescindibile consapevolezza in questo momento storico di principi forti e provvidenziali di coesione nazionale. E non dubito parimenti che lei sia stato un esempio e un modello di attaccamento alle istituzioni anche per i servitori dello Stato che lei si accinge oggi a ricompensare. Grazie ancora quindi, Signor Presidente, per la sensibilità e per la vicinanza con cui lei onora le donne e gli uomini delle Forze Armate e per cui le sono personalmente riconoscente. La fiducia che lei nutre nei confronti delle istituzioni militari sarà sempre ben riposta. Viva le Forze Armate e viva l'Italia!